Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Sandra Pana1 oggi siamo in una challenge un po' particolare una challenge che non serve più come questi noi siamo sul campo di T-Ghost e farò ogni volta che morirò io metterò uno di questi il video ovviamente deve durare 10 minuti per non far finire la partita ho messo punti limitati e tempo limitato alleati 5 minuti 5 mappa Horizon Break detto questo possiamo iniziare andiamo mi siedo ah e vi lascio sempre scusate vi lascio sempre in descrizione il nome per giocare a gt5 vi lascio in descrizione e niente che dire cominciamo cominciamo ok ragazzi visto che voi non vedete vi dirò io allora va su ghost ovviamente scelgo il cecchino un cecchino vi dirò io quanti potessi non faccio allora vediamo un po' così ok però adesso ci sono un uccisione ovviamente io non sto facendo un uccisione forse sono forte un cecchino però devo avere un uccisione reale per fare un uccisione non so questo morirà tirlo forse via ero morto ok sfruttare ecco sei morto un morto una morte devo mangiarmi sono sono ok andiamo spero di non farli più sono giganteschi guardati con puttana guardati guardati resta un po' vediamo sempre 幹ite nod 사 udiamo i già kans fin tutti Sì. 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 scommettate che non uccido neanche una volta adesso adesso mi fa male la mascella la mascella madonna santa c'è anche l'unica unica che mi uccide dopo c'è anche l'unica 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 che mi uccide dopo no no c'è anche l'unica che mi uccide dopo c'è anche l'unica che mi uccide dopo c'è anche l'unica che mi uccide dopo c'è tutto adesso sempre la descrizione del mio nome per Gt5 per la classe centrale chiunque vuole vabbè, ti capito? chiunque vuole un'animo ericizio troppo che questo video vi sia piaciuto e... a prossimo video